Sono Niccolò Mascheroni e non so mica che ruolo ho in azienda, sapete che ci devo pensare. È un'azienda familiare, quindi il ruolo che ricopri è quello del padre di famiglia, credo. La mia più grande soddisfazione a fare quello che faccio è la famiglia, la capacità di tramandare attraverso questa azienda agricola una cultura familiare, che non è solo quella da me ai miei figli, ma anche da me alle 30 famiglie che lavorano a Volpaia. Io ho un altro lavoro perché non voglio gravare su Volpaia. Farò di tutto perché resti un'unica cosa integra per la protezione del contesto ambientale e sociale intorno a Volpaia. Quindi con grande rammarico dei miei figli si troveranno solamente a gestire una cosa che non si potranno mai dividere. Questa è la riserva del castello di Volpaia. Credo che sia il vino più rappresentativo di Volpaia, il vino più rappresentativo della tradizione chiantigiana. Noi da sempre, da quando conduciamo l'azienda del castello di Volpaia, produciamo una riserva. È una riserva fatta solo di San Giovese ed è un assemblaggio di diverse vigne. Quindi ogni anno ha una composizione di vigne differenti. E da sempre ha sempre rappresentato la nostra azienda. È anche stato il primo Chianti Classico ad essere inserito al numero 3 dei 100 vini migliori del mondo da Wine Spectator. Chianti Classico ad essere inserito al numero 3 dei 100 vini migliori del mondo da Wine Spectator. Chianti Classico ad essere inserito al numero 3 dei 100 vini migliori del mondo da Wine Spectator.